non c'è bisogno che gli spiego di fermarsi lì e per venire a una unica ci siamo Serelella secondo te devo mettere per chiedere buce ma che non so a 9-100 anni che fanno sempre gli stessi minchiati non vorrei fare vabbè però c'è un po' di divertimento, questa è già la bella ecco, guarda la pesca, guarda la pesca, guarda la pesca, non si capisci, è allenato, tutto è allenato vediamo di quale qualche bella foto non è che si ribalta ah, il pontile ragazzi, ci conosciamo sul facebook scusate che non c'è la mano occupata, t'ho posto ragazzi t'ho posto ci conosciamo per via di facebook vero? almeno facebook qualcosa di carino di andentato allora dai, a 1 guarda, c'è il fotografo Marco ciao 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 Marco, c'è il fotografo dov'è? ah, ah che fa? fai scendere? fai scendere a lui, vabbè va e poi te ne vai subito sì il medico si è fatto il bagno ma niente ne vede a vedere tu dammi la mano, vai ciao Pippo ciao Pippo ciao Pippetto ciao Mauri come dovrebbe essere allora ha detto, ha detto che veniva i venerdì vai salta com'è è strano minchia come ha fatto manco prego posto, 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 dai dai, dai, dai allora numero 4 aspetta, aspetta siamo libero qua libero vieni avanti va bene tu che sei piccolino metti la mano ma già ci hanno consegnato qualcuno si 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 ma ti fai dal nonno ti fai dal nonno spiega ciao Ernestino ciao ciao sembra è tornata agosto fermi là veniamo noi agosto ragazzi dovete dirmi che devono venire qua non l'ho capito numero 8 no, 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 sentita 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 solo loro non l'abbiamo fatto capo allora attenzate per il monotale che li facciamo venire qua ma 8 ma Marco mettiamoci qua va bene va bene scusate permesso 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 vai fate arrivare gli altri forse tutti su questo pontile ragazzi per tuo amore il pontile è un po' in difficoltà rischiamo di finire tutti in atto Maurizio ciao Roby Polino ti depenno vai il numero Maurizio siamo stati tre ore a marcare la partita e lei la vino Roby Vincenzo Vincenzo oh convinti che la vuoi sono Vincenzo stai in zitto che uno è l'equivalente dei tre tuoi zitto vedici fatto depennante e cosa è la potrei potremmo potremmo perfetto sound gentilmente come per portarvi tutti indietro tutti indietro tutti indietro tutti indietro grazie se noi andiamo tutti a fondo grazie Sandro tutti indietro Sandro numero Sandro è la dove dove tutti indietro grazie stai a menù non li vuoi 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 vogliamo dare adesso adesso sbrighiamoci alle nove a mezzo ma manco sono tovetta bravo volete consegnare ok allora preparatevi da questa parte bravi bravi riccardo riccardo abatto ok ok rapidi allora nove stai spuntando piano piano ciao ciao piet tutti buoni tutti buoni sono qui oh forza avanti l'altro sì come ormai convertino ti detendo cancello troppa gente poi qua diventa pericoloso dai alza abbassatelo perché quello non viene ridere sempre vai vai ridiamole l'altro ok sì sono stato in mare con porca miseria ma io sono stato in mare ma adesso via 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 già cancellato dai 5 no siamo tanti 5 ragazzi allontanatevi scostatevi bravi bravi bravo 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 Igor giralo Igor giralo al contrario bravo Teodoro bravi bravo 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 giuseppe ragazzi qua siamo troppi qua siamo troppi andiamo a finire tutti in acqua per cortesia lasciamo spazio no i due gli ubi servono ma palaia mi guardi dove è palaia palaia non è a mare è a mare deve rientrare c'è qua Allora, dai, avanti, avanti. Lorenzo, dici il numero dei palaia? Non lo so, ma l'alloggio ne è tu. Bravi. Ok. Numero? Quattordici, quattordici. Allora, quattordici bonus commissione, eh? Bonus commissione. Ebbè, dai, mi fai avrei mille punti in più. Bonus commissione a quattordici, per favore. Quanto gli diamo? E c'è il bonus della commissione, oh. E lui è uno di quelli... Lui è quello che divide i palacchi insieme a me, perciò va bene. Avete sbagliato nel numero di assegnazione, 17. Non abbiamo sceso. Ciao, Gio. 17 l'hai segnato? Sì, è 12 anni. Marco. Alza, Giovanni. Palaia, quello è il mio iglù? Vi passate anche l'iglù, per favore. Due. Tutti a tre, ragazzi. Complimenti. Sono bene i coglioni, bravi. Senti, ma perché l'iglù? Non è mio questo? Sì, dai, le faccio un po' lì. Ah, che l'ho dato io? Vabbè. Ok. E prestamolo la nostra, io voglio riportare il mio, capito? Ne ho prestati due. Se puoi, eh. No, ma sicuro. Allora, terniere numero due. Due, due, due. Due è rientrato, va bene. Vabbè, potrò lì giù. E poi, no, per carriera. Aspetta. C'è il salbonatore. Albo, tutti e tre. Pettino, manovra bene. Più basso. Va bene. Ok. Grazie. Prego. Buon paese. No, non lo toglie. No, non lo toglie. Ok. Che numero è? Dodici, dodici. Dodici. E il mio fasone, per scopatia, via un colpo in avanti e per la parte. E se neanche. Ti, leggerla. Eh, scusami. Ma va un po'. Non è un po'. Non è un po'. Non è un po'. number one sono tornati i divi ok bravi ragazzi bravi bravi ti posso cancellare lo devi scancellare vieni truffi oh natale mi sa tanto che perfino di qui che devo in giro truffi la foto in tre dai la foto tutti e tre casena giusto sei sempre il solito ecologico pronto si al po al pontile prima dell'appunto del chi deve entrare quindi morì occhio marco ecco the big si poteva fare meglio troppo ma così e te se non prendi qualcosa solo alle lavanti no no vabbè mettetemi tutta la sopra non sei soddisfatto scusate da dietro dai corriso per la stampa ragazzi ok ok vabbè 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 posso rispondere però compa apri il cuore dai ma perfetto aspetta andata dove la vediamo dai si 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 ci va vai ci perlizzi ma tu ti da impazzire lo so lo so poi poi sempre il peso maurizio chi manca 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 sono due gli ultimi due equipaggi eh per io e Fabio e Fabio ciao Franco mi chiamo mi chiamo mi chiamo mi chiamo ancora mi chiamiamo il bimbo ok e manca i che nel senso il direttore chiudere e quindi ci dico e ma qua Sì, manca un po' Fabio Amico E' un set Un set Se ce ne sarà bene Pikachu io non ce la giuro a me grandi giovani tre kg perso di tutto ma non è un peccato da impazzire che accendevo una intanto mette le l'ansia però mettele là ora vado a prendere la cesta per 11 abbiamo pesci grossi e poi un altro 4-5 pesci 5 pesci 5 pesci se non me lo aveva niente siete sempre dei personaggi non è niente personaggio con il signore non è tortorella Non vedo l'idea di niente, non vedo l'idea di niente. ma come si fa? va bene, compagno ci metti uno faccio che pesano in pelle va bene, prendi faccio la tutta e tre insieme lui si porta lui si porta ok è ufficiale, è tenente a colonna allora, va giunto di questo ok, Fabio, guardate qua un po' più basso, Fabio bravo, sorridente, così ok, va bene abbiamo perduto guardate voi gli ultimi eravamo gli ultimi faravamo che sarei stato a rafferire le bellezze non lo sai cosa non lo sai cosa va bene qua non ce ne vanno più no, non ce ne vanno più si attenta che tu puoi cadere l'intenziale ce n'è una liva non ce ne vanno più o Igor o Igor o Igor di picciotti di picciotti di picciotti che dirì sulla capo già vi avevamo fatto un pescatone avevamo uno saraconi ok vabbè no tento me lo stanno portando ma poi c'è stato il maestrale che è stato fantastico allora calò Marco che non è tutto Marco qualcuno qua si può togliere qualcuno qua si può togliere ce n'è una viva forse in questa questo chi me l'ha dato i ragazzi è risolto qua